Ciao ragazzi, ben ritrovati, via l'Inter di Football qui a cercare di creare il calcio interstellare per voi Secondo episodio di questo martedì, abbiamo cominciato alla grande con una vittoria Rotonda, tranquilla, ma anche di convinzione, di forza, di dimostrazione di forza Speriamo che possiamo continuare su questa stessa strada, che l'Inter possa continuare su questa stessa strada Per questo secondo episodio di giornata Prima di fiondarci sul prossimo avversario Ragazzi, come al solito, vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi al canale se vi piacciono questi contenuti Perché mi aiuta un sacco E vediamo chi è l'avversario di oggi Obiettivo, ovviamente lo sapete, prima divisione La prima volta con questo nuovo sistema delle fasce Terza divisione 8400 al mondo In realtà non siamo neanche così alti, poi siamo 2000 Oltre 2000 al mondo, quindi non è che Abbiamo chissà che pretese, direi Andiamo a dare un'occhiata ai nostri ragazzi Maiconi formissima Ciala, Mkhitaryan, che bello vedere tutto questo Anche di Marco, abbiamo delle ali di fuoco oggi Vediamo l'attacco con Turam, che sta meglio di Adriano E noi lo giochiamo, senza dubbio Che altro? Cervini, Cordoba, Cervini lo gioco solo 6 in superforma Altrimenti no Vediamo il nostro avversario Squadra, praticamente il Bayern No, no, in realtà no Cioè, in realtà non del Bayern, tutti i rossi Ci sono due del Bayern, due del Liverpool O alcuno dell'Arsenal Quindi, ok, è abbastanza equilibrata Ma parliamo di una squadra da super top Contonali, mediano, ex Milan Che è una carta che uscì anche a me Dal giro gratuito In attacco messi in Bappé Mané Un po' più classico come attacco Diffica Tra l'altro fortissima e velocissima Perché Marchinius è super veloce Non parliamo neanche di Alexander-Arnold e Robertson Forse i tersini più veloci del gioco Forse dietro Mycon E... molto bene Io... per adesso, ragazzi Forse la marcatura sull'SP la devo mettere Perché per come le ha messe Si allargeranno un pochino, secondo me Pronti ovviamente a cambiare in caso Di... In caso notiamo delle situazioni diverse Abbiamo quindi Messi e Mané da marcare Messi molto temibile per il tiro a giro Mané un po' più temibile per la sua velocità incredibile Soprattutto poi per la carta È quella di quando era il Bayern Quindi parliamo forse top della sua carriera Anche se il top della sua carriera Dovrebbe essere probabilmente al Liverpool In panchina non ho visto Allora si chiama RMT Mi immagino Real Madrid team probabilmente La squadra che ha preso è il Real Madrid Quindi... Tutto torna, tutto coerente Almeno da questo punto di vista Vediamo la sua panchina Con... Bappiera ha tolto quindi C'è Salah, Oland, Benzema Vedo Mané in panchina però Attenzione Ancorti, giusto in tempo c'è Neymar Lewandowski, Messi Ok, quindi l'altro è Neymar Su cui dobbiamo mettere la marcatura Ah, c'è già Neymar, Messi Forse hanno aggiustato qui a questo punto Che lasciano la marcatura Sulla posizione E non sul giocatore Questo, questo Questa è una cosa interessante Non so se l'hanno aggiustato e da quando Ma, vediamo C'è Pioli Come allenatore del Real Madrid Cosa che non vedremo mai probabilmente Ma... È l'Inter a cominciare Questo Inter-Real Madrid Miki che l'alza a cercare Lautaro Eh, non c'era spazio Bravo Miki ad anticipare Ma il conno col pallone Che vede Miki Taran Riesce a servirlo Miki tiene il pallone in campo Se ne va Miki Guadagni a fondo Il cross al centro C'è Turam Ma come ha segnato Marcus Turam Da dove l'ha messa? Ma che torsione era? Mamma mia ragazzi Torsione quasi innaturale di Marcus Turam Ed è 1-0 Inter Poi Lautaro che recupera il pallone Ancora cercare Marcus Turam Un po' in fissa con queste palle alte Miki oggi Poi ancora Mecon Di nuovo cercare Miki Taran Ci riprova con la stessa tattica Uguale Gol fotocopia Al sesto minuto E ancora Turam Ancora cross di Miki Incredibile Mai riusciti così tanti colpi di testa In così poco tempo Veramente mai Bravo qui Devrei Attento Poi Giulione Col destro che non è su piede E si vede Maicon è costretto a regalare questa palla A Neymar Ma Pavar Fa un grandissimo anticipo Riparte l'Inter Lautaro Miki Ancora cercare Lautaro Anticipato però Vare però Capisce tutto E recupera Ciala che l'alza Cercare Marcus Turam Si distende l'Inter Poi Lautaro Che non riesce a far passare questa palla Peccato per Marcus Turam Poi Lewandowski indietro Maicon Capisce tutto E anticipa Varela per Cialanoglu A cercare Marcus Turam Ancora Miki Pollento In realtà è stato chiuso Si sono allontanati tutti Lui non sapeva giustamente Chi dare il pallone Bravo Devrei Indietro da bastoni Per Di Marco Si riparte Si fa vedere Cialanoglu Fermato da Odegaard Al centrocampo Al quattordicesimo Rimessa laterale Per i nero azzurri Vedete che hanno Quasi già messo in cassaforte La partita 2-0 14 minuti E un Un impatto importante Che può andare ad influire Anche poi Sulla Sulla questione psicologica Sull'aspetto mentale Di come il reale Costretto E come affronterà Poi la partita Già forse Delle contromisure Da parte di Pioli Inter Che è ben schierata Anche se Bisogna dire poi Che i gol sono arrivati Un paio Comunque Da situazioni In cui c'entra un po' la fortuna Non so se poi la fortuna Se gli errori Perché io parlo Mi sto riferendo Agli anticipi Che ha fatto Mkhitaryan Che si è trovato Sulla linea di passaggio Forse più che fortuna Lì sono errori Di impostazione Dei giocatori del reale Entrambi gli errori Di Robertson Forse non è entrato Molto bene in partita Ci siamo Non era per lui Ma alla fine È andata anche Abbastanza bene Miki Cercare Ciala Anticipato Barella per un piede Anticipare Attenzione a quest'1-2 Ma Icon Non si fa fregare E parte in contropiede Ma Icon Ma Icon Peccato che ha dovuto Calciare col sinistro Ma la corsa Riguardava proprio Quello del colosso I bei tempi del 2010 E ma Icon Scooter Nerazzurri Con dita Che si prende Tutto il tempo Possibile Per questo rinvio Forse anche un po' Troppo Non vorrei che Il nostro avversario Si sia chiamato Fuori No Perché vedo che ha colpito Di testa Semplicemente Ho dovuto aspettare Tutto il tempo Attenzione a noi Marqui Mamma mia Non ci arrivano Poi c'ha la Recupera il pallone Riparte l'Inter Mamma mia Miki Che giocata A servire Lo scatto Di Mycon 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 Indietro A cercare l'Audi Non era male L'idea ragazzi Non era male Poi c'ha la no glue Dida dice no C'è ancora Marcus Turam Che ha provato a sfondare Non è neanche calcio d'angolo Peccato Non sono riuscito A fare quello che volevo Ragazzi Ancora a cercare Lewandowski Che riesce a A vincere il contrasto Di testa Poi Miki Si fa vedere L'Audi Di nuovo per Mycon A cercare di nuovo Lautaro Fermato Non è finita Ancora Mycon La palla è per Mkhitaryan E qui De Bruyne Gliela soffia Odegaard Che si distende C'è ancora De Bruyne Col pallone Ma Barella Recupera Riparte l'Inter Ancora con Mkhitaryan A servire Marcus Turam Si infila Ciala No glue Perfettamente Ciala In aria Per Di Marco E mica Ramalri De ragazzi Ancora recupero Barella Una botta Una botta A giocare A giocare Vediamo se vuole A giocare Vediamo se vuole giocare A incrociare la porta E scalda E scalda le mani Giulione Quando siamo Risponde Due stupendo Due stupendo Tra Lautaro E Marco Sturam Che ha ancora un'opportunità Marcus la mette al centro Per Lautaro Palla deviata Di un soffio E si salva Qui il Real In avanti Bastoni Anticipa Ancora Di Marco Che scende Vediamo se c'è il tempo Per questa Azione Con Marco Sturam A cercare Di Marco Di Marco Di Marco La mette al centro Dall'altro lato Miki Peccato Peccato davvero Ragazzi Ancora Neymar L'uno contro uno Lo deve contenere Pavarra Aspetta Il rinforzo Poi il passaggio In profondità La chiusura Recupera l'Inter E finisce il primo tempo E 3 a 0 Ma guarda è lì Al terzo E al sesto minuto Sturam Aveva già Fatto capire In che direzione Sarebbe andata la partita Unico tiro della partita Quello di Neymar Per quanto riguarda Il Real Madrid Una bella giocata In solitaria A liberarsi di Maicon A calciare Ma ha trovato Pronto Giulione Che si è disteso Alla sua sinistra Per evitare Che la palla Entra a sé Ovviamente in porta Inter Adesso senza alcun problema Per come si sta comportando L'avversario Mi aspetto adesso Che dobbiamo aspettare Questi 30 secondi Per intero Sento dire Un po' antisportivo Il nostro avversario Mi fa perdere tempo Non capisco Mi ha fatto già In occasione Di un calcio di inizio In occasione Di una Rimessa da fondo Noi siamo pronti Qui ad aspettarlo Però Non credo Ci sia bisogno Neanche di cambi Ragazzi Poi alla fine Siamo benissimo In realtà poi Questa cosa Il boost Di Inzaghi Non è mica male Avere comunque I giocatori titolari Che resistono Parecchio E non essere costretti A doverli cambiare Al cinquantesimo Sessantesimo Che era in realtà Un po' quello che mi capitava Prima di Inzaghi Booster Parte Real Almeno non abbiamo potuto Aspettare tutti i secondi Per questo calcio d'inizio Pavard Bravissimo a recuperare E allora Bravo Michi Che non sbaglia Nella gestione Di questo pallone C'ha la Noglu A cercare Marcus Turam Ha provato A cercare di arrivare Su questo pallone Bravissimo Bastone Gradini Anche in campo Poi Ciala Bellissimo Il tacco A cercare Di nuovo Ciala in aria A cercare Turam Turam Parata spettacolare E poi ancora Dida Mamma mia ragazzi Ma che bella Lazzine tra Ciala E Turam Stupenda L'1-2 Meraviglioso Bravo Ancora Maicon Fermare l'avversario Ancora Tacco per Turam In aria Non riesce a calciare Poi Dida Ah qui Si fa ingannare Dal rimbalzo del pallone Pavar Bravo Bastoni Attento E allora l'Inter Maicon In avanti per Ciala Noglu A cercare Mkhitaryan Poi Lautaro Per Marcus Turam Indietro per Ciala Noglu Di nuovo per Turam Passaggio un pilino lungo Peccato Palla che passa Non ci arriva nessuno Recupera Maicon Che allarga per Pavar In avanti a cercare Miki che Praticamente solo controlla Ancora in aria Qui Ancora Ciala Noglu Vole recuperare Miki in aria A cercare Lautaro Che bravi I difensori del Real In questo caso Poi Quasi spazzata Forse Bastoni Che segue Attentissimo Bellissima Apertura Per Di Marco Che guadagna il fondo Il cross al centro Lautaro Mamma mia Era proprio lì in tempo Per arrivare Ancora la palla Per Mkhitaryan Bravissimo Ancora Di Marco A tenere violazione L'Inter Ciala Ancora per Di Marco Passaggio un po' lento Però devo dire Prova a distendersi Qui Real Passaggio impreciso Neymar non riesce A tenere in campo Il 66 Peccato Si stava distendendo bene Il Real Madrid Non passa la palla Qui forse Deveva girarsi All'altro lato Ancora Inter Mamma mia Che invenzione Di Turama Per Lautaro Ma c'è la chiusura Di Robertson Velocissimo ragazzi Non c'era scampo Neanche per il nostro Lautaro Ancora Direi per l'Inter Il nostro avversario Che è completamente Inoffensiva Cercare Marcus Turama L'anticipo di Robertson È sicuro però Neymar Neymar a giro Quei è in scivolata Addirittura Pavara Cercare di coprire La linea Peccato Quest'ultimo passaggio Sbagliato Stava per venire Una bella azione Fuori Erroraccio C'è Mickey Ancora Per Turama Non è fuori gioco Marcus Turama A giro No sbaglia Ci è voluto un po' Per mettere il punto esclamativo Ma il punto esclamativo Alla fine È arrivato Ancora Marcus Turama Tripletta per lui Giornata di grazia Per il francese Spettacolare Grandissima esecuzione A rientrare Poi tra l'altro Stram Quasi stanco Gli facciamo prendere La standing innovation Mettiamo Arnautovic Ciala Poi chi altro abbiamo qui Ciala Forse potrebbe Lasciare spazio a qualcuno Ma anche no Ragazzi Anche no Mettiamo solo Marco Arnautovic Per far prendere La standing innovation La standing ovation La standing ovation A Al francese In forma smagliante Ragazzi Veramente in forma smagliante E non ho dubbi Che il nostro avversario Non stia facendo nulla Praticamente Credo solo che voglia Farci perdere tutto il tempo possibile Che vedo che La squadra Non sta cambiando Forse ci siamo Ok Ah ho fatto qualche cambio Non l'ho fatto io il cambio In realtà Infatti Non c'è sempre in avanti Qui con Deve riattento Attenzione qui Questo errore Con Odegaard Che sbaglia il passaggio Recopra l'Inter Che ha fermato Tonale lì eh Bella palla Fermata Bellissimo il tacco Per Arnauto Ci ha penetrato Marco Arnautovic In avanti In avanti a cercare Di Marco Guarda come lo segue Maicon Benissimo E barella Fermare tutto Ancora Tonali Che salva tutto Ma non è finita Perché c'è Ciala Provate a calciare Poi Lautaro Ancora in aria Per Cialanoglu Qui sta difendendo Il nostro avversario Meglio in meno uomini In aria Mamma mia Tonali sta facendo Il difensore Meglio di qualsiasi Altro difensore naturale Con Dida A questo punto Che rilancia Sul 4-0 C'è poco da Provare Centralmente per l'Audi Si gira Calcia Calcia a giro Ma Dida c'è Provato Cialanoglu Ancora Tonali Ragazzi Tonali ha fatto Un secondo tempo Mostruoso Ancora Barella Recuperare Intra che ci Continua a provare Come se stesse Perdendo Letteralmente Ancora per Marco Arnautovic E' sempre lui A giro C'è Di Marco Mamma mia Ma Dida Che cosa ha preso Che cosa ha preso Dida Per evitare il 5-0 Finisce così 3 di Turam E 1 di Barella Con Dida Tra l'altro Superlativo Ad evitare La goleada Nerazzurra Intanto ragazzi E' un'altra vittoria In seconda divisione Noi continuiamo a volare Altri 30 punti Per noi Direi che non è male Affatto Continua La nostra striscia Di vittorie consecutive Ragazzi E' tutto per questo Martedì Io vi ringrazio Come al solito Per aver guardato Fatemi sapere Cosa ne resta nei commenti E ci vediamo alla prossima